Continuano incessanti i controlli dei carabinieri di Santa Croce e Camerina per mettere fine al fenomeno di spaccio di stupefacenti, attività che secondo i militari stanno portando i frutti sperati. Dopo l'operazione Camerina-Drags, che a fine dicembre aveva portato a 14 arresti, si sarebbe infatti registrato un calo nella presenza di spacciatori, forse intimoriti dagli eccessivi controlli. L'altra sera, intorno alle 10, i carabinieri di Santa Croce si sono concentrati sulla zona di Punta Braccetto, località che soffre in maniera altalenante della presenza di spacciatori, che approfittano della poca presenza di persone nei mesi invernali per passare più inosservati. I militari hanno visto sopraggiungere una due volumi di marca francese, con dei uomini a bordo, e hanno deciso di fermarla. Dal controllo dei documenti è emerso che entrambi avessero avuto pendenze con le forze di polizia, sia per spaccio che per traffico di droga. A questo punto, gli agenti hanno deciso di ispezionare minuziosamente il veicolo. Nel portoggetti centrali, in un pacchetto di caramelle, hanno così ritrovato un involucro con due grammi e mezzo di cocaina, che dalla forma e dal confezionamento appariva di elevata qualità. Mirko Ballarò, 31enne operaio vittoriese, e Simone Blundo, 34enne vittoriese e libero professionista, sono stati così arrestati per detenzione di stupefacenti e fini di spaccio. I carabinieri sospettano che i due arrivassero da Scoglitti per andare a Santa Croce a portare la coca a qualche acquirente che l'aveva ordinata a domicilio. Dopo le decine di arresti operati dalle forze dell'ordine tra dicembre e gennaio, infatti, pare che nel centro camarinese sia impossibile trovare della cocaina. Dopo i rilevi di rito, i due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, presso le rispettive abitazioni di Vittoria e Scoglitti.